I luoghi hanno parole che custodiscono il senso profondo, ancestrale, che stringono l'enigma e attendono il suo disvelamento per poi poterlo riproporre e riprendere ad attendere ancora un'interpretazione, un'interpretazione ulteriore. Le parole profonde di un luogo richiamano un'interpretazione infinita, intorno ad esse si forma una ragnatela di segni iconici, grafici, che riportano altri segni provenienti da una lontananza di tempo e di luogo o che ad una lontananza rinviano, dall'intervento di Antonio Enrico.